Il libro che presentiamo stasera è una storia anche di famiglia, di padri e di figli, intanto vi chiamo uno alla volta, qua così vi prendete l'applauso uno per uno. Allora il padre era Fernando Aiuti, il figlio è Alessandro Aiuti. Alessandro Aiuti, pediatra, vice direttore dell'istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, il TGET di Milano, da adesso in avanti lo chiameremo solo TGET e autore insieme a Anna Maria Zacchedu. Anna Maria Zacchedu, comunicatrice della scienza, lavora per la fondazione Teleton dove si occupa proprio di comunicazione, hanno scritto insieme la cura inaspettata, l'HIV da peste del secolo a farmaco di precisione e una dei protagonisti del libro è qua con noi stasera e la chiamo e la chiamo sul palco, Maria Grazia Roncarolo, torinese, torinesissima, scienziata di fama, stavo per dire internazionale in realtà, cioè stellare, possiamo dire così, ha lavorato in tutto il mondo e adesso ha diretto il TGET ormai ventina di anni fa, no, no, meno, meno, qualche anno fa e adesso è in America, Stanford, dove si occupa di fatto di terapie avanzate con cellule staminali e non solo, ma poi ci arriveremo. La storia che è raccontata in questo libro, anzi le storie che sono raccontate in questo libro, sono tante, sono storie di famiglia, storie di scienza, storie di attivismo, sono state raccolte con un lavoro credo che è durato un tempo infinito perché è densissimo, è un libro veramente denso, scritto molto bene, molto intenso, che ti tiene attaccata alle pagine, devi arrivare al fondo, non riesci a fermarti perché veramente è un film di fatto, magari lo diventerà, speriamo, insomma sarebbe bello e però ha questo filo conduttore, sono i 40 anni che abbiamo visto passare in questo filmato di introduzione, sono i 40 anni dalla scoperta dei primi casi di persone che avevano questa malattia che all'epoca era un qualcosa di totalmente sconosciuto, che si è poi scoperto che era l'AIDS, a oggi e magari c'è anche in realtà uno sguardo al futuro. Allora io vorrei subito partire con Alessandro Aiuti per darci un po' un punto di inizio, quindi tornai indietro di 40 anni in quel giugno del 1981, quindi sono 42 anni fa esatti, in cui sono spuntati questi primi casi di queste strane polmoniti e partiamo da lì e vediamo da dove poi arriviamo. Dovrebbe essere acceso? Ok, sì, partiamo da lì perché negli Stati Uniti vengono descritti su una rivista non così importante dei primi casi di polmoniti da un agente che si chiama pneumocistis e vengono descritti in una comunità di omosessuali e all'inizio non ci si rende conto del fatto che si tratta dell'inizio di una pandemia, però mettendo insieme i dati che poi vengono pubblicati su una rivista molto importante dopo qualche tempo, il New England, si capisce che dietro quelle polmoniti c'è un problema al sistema immunitario, quindi c'è qualche cosa che sta rendendo quei ragazzi, quegli uomini particolarmente vulnerabili a degli agenti microbici, a dei microbi che sono normalmente, che non causano questo tipo di polmoniti e in quei mesi mio papà aveva visto un caso anche lì strano di una persona che viaggiava molto e che anche lui non si riusciva a spiegare l'origine di quella polmonite e poi subentrano anche la descrizione di casi di tumori alla pelle molto particolari e dopo qualche mese mio papà va a New York da alcuni colleghi americani e va e vede questi pazienti che erano in fin di vita e da lì nasce la storia di un medico che torna in Italia e comincia insieme ad altri colleghi a cercare di capire da dove viene la causa e soprattutto a cercare di prevenire il contagio perché allora non si conosceva in realtà ancora quale fosse la causa e si diffonde questa pandemia nel giro di qualche mese, qualche anno e comincia a causare decine di migliaia di morti e lì veramente stiamo in un momento in cui non c'era una cura, ci sono voluti due anni per scoprire il virus, nel libro facciamo il parallelo proprio rispetto alla pandemia più recente da SARS-CoV-2 dove ci sono volute poche settimane per identificare il virus e pochi mesi per trovare un vaccino, oggi non c'è ancora un vaccino per l'HIV e ci sono voluti più di due anni per scoprirlo, quindi sono tempi molto diversi e anche virus diversi. Infatti ci sono voluti due anni per scoprirlo e poi le prime terapie sono arrivate 15 anni dopo più o meno, sono la prima terapia efficace, una quindicina d'anni dopo e la prima comparsa di Maria Grazia Roncarolo nel libro è proprio in quel primo periodo lì perché raccontate di un congresso in Francia, non mi ricordo se a Parigi o Lione, insomma comunque era in Francia in cui lei ha incontrato Fernando Aiuti e a questo congresso dove venivano presentati credo i primi dati su questo nuovo virus, c'era l'allora premio, quello che poi sarebbe diventato il premio Nobel Luc Montagnier che raccontava i suoi risultati e lei dice proprio in una frase, c'era molto scetticismo all'epoca su quelle scoperte lì ed erano però passati due anni dai primi casi. Sì assolutamente, io conoscevo Fernando Aiuti già da prima perché nel libro forse non si evince ma lui insieme a una pediatra di Roma, Luisa Businco, sono stati i primi in Italia a studiare le monodeficienze primitive e sono stati anche i primi che ci hanno insegnato, io ero una studentessa di medicina, a fare la diagnosi di queste malattie attraverso gli anticorpi monoclonali eccetera. Quindi il professore Aiuti, come lo chiamavo io, io non chiamo Alessandro il professore Aiuti, per me lui è Alessandro, ma il professore Aiuti io lo conoscevo perché era già un esempio di un immunologo clinico che pur non essendo pediatra aveva contribuito moltissimo alla comprensione di queste malattie genetiche che allora definivamo inguaribili, oggi le guariamo. E quindi io avevo una grande ammirazione e una grande stima per questo professore che mi incuteva anche un po' di soggezione, anche se lui era una persona molto affabile e anche molto aperta ai giovani. E quindi quando mi sono ritrovata a Filderval, che era il mio primo congresso internazionale dopo che sono nata a Lione per uno stage con una borsa di studio della stampa col comitato Gigi Ghirotti, ci siamo trovati tutti a parlare di monodeficienze primitive e poi è comparso questo scienziato che devo dire non aveva neanche un aspetto così carismatico, si chiamava Montagnier e ha presentato questa diapositiva del microscopio elettronico di questo virus dicendo che questi tumori della pelle erano causati da questo virus. E io devo dire da studentessa quale ero, ero già laureata ma comunque ero una specializzante a Pivella, ho detto ma chi è questo qua che viene a farci vedere questo virus? E c'era una buona dose di scetticismo. Il mio capo francese Jean-Louis Touraine, da buon francese, ha detto ignora. Però in realtà lui stesso poi è stato il primo, uno dei primi in Francia, a dedicare un'intera clinica, con uno sforzo enorme, un intero padiglione dell'Edoard Riau a questi pazienti. Quindi sì, sicuramente noi siamo stati testimoni di una storia. Ripeto, il professore Aiuti era una persona che veniva già da un background molto importante di comprensione delle monodeficienze primitive. Quindi lui si è dedicato all'infezione da HIV già con le spalle belle larghe. E questo da un punto di vista scientifico c'era poi anche un'altra componente che è quella che poi tutti noi abbiamo conosciuto di più, che era la parte invece più pubblica, più di esposizione pubblica, di attivismo nei confronti, nel momento in cui insomma si è capito che a causare questa malattia era un virus, si è iniziato a capire un po' come si diffondeva il professore Aiuti, che adesso anch'io chiamerò così perché effettivamente ci sta. Il professore Aiuti ha iniziato a impegnarsi non solo sul piano scientifico ma anche su quello della comunicazione, ma anche quello dell'azione quotidiana per cercare da un lato di fare comunicazione su questi aspetti e dall'altro puntando molto alla prevenzione, cercando di lavorare per prevenire i danni visto che non c'era una cura e che quindi insomma non si poteva fare. E quindi vorrei chiedere ad Anna Maria Zacchedu, poi ti chiedo a te degli aspetti un po' più personali, però volevo chiedere ad Anna Maria Zacchedu, tu sei una comunicatrice della scienza e mi immagino, perché lo sono anch'io, che questa parte qua di medico che si espone così tanto sia stata super affascinante per te nel raccontare, nel provare a raccontare questa storia. Assolutamente, infatti uno dei rimpianti un po' che ho avuto di non aver potuto intervistare anche lui perché diciamo chiaramente il mio ruolo in questa storia è stato quello di mettere a disposizione quello che so fare per tracciare un racconto e quindi tirare fuori le voci delle tantissime persone a cui abbiamo dato voce in questo libro. Chiaramente non era possibile farlo con Fernando Aiuti, ma una cosa che lui ci ha lasciato è il suo libro, quello che c'era nel filmato, che vi invito a recuperare, nessuna condanna. Già il titolo dice in sintesi il suo pensiero, perché appunto quel libro è stato scritto nel 93, quindi prima che arrivassero i farmaci, quando l'AIDS era veramente una condanna morte ed è anche qui una raccolta sia delle sue esperienze di scienziato, di medico, ma anche tante storie di persone le più diverse che hanno avuto la sfortuna di incontrare questo virus. e quindi insomma lui l'ha fatto fin dall'inizio, anche quando c'era molto scetticismo tra i suoi colleghi, come lui racconta, quindi quando non se ne voleva parlare, quindi lui ci ha messo la faccia, ci ha messo la faccia in televisione, ci ha messo la faccia andando nelle comunità di recupero per dire ai tossicodipendenti, se proprio dovete drogarvi non scambiatevi le siringhe e andando nelle carceri, quindi mettendoci veramente la faccia. E devo dire che questa è stata una bella scoperta per me, che naturalmente lo conoscevo come nome, ma ho avuto il privilegio di conoscerlo attraverso le voci dei suoi collaboratori, della sua assistente. Le assistenti hanno sempre un ruolo eccezionale nella vita degli scienziati, un giorno forse bisognerebbe fare un libro su di loro. Magari nel film ci sarà magari lo spin off sull'assistente. Tra l'altro c'è un passaggio dove scrivete che vi siete resi conto, tu e tuo papà, o forse tuo papà prima di te, che il vostro cognome in inglese, aiuti, suona come AIDS. Quindi forse era una battuta di tuo papà? No, 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 in realtà sì. Penso di averglielo ricordato io ed è stato incredibile perché era proprio un destino, un destino come AIDS e poi forse il nostro cognome era quello di aiutare, no? Cioè abbiamo sempre pensato come un aiuto al prossimo, un aiuto alle altre persone, però il destino era proprio nel nostro nome, soprattutto di mio papà, AIDS. Tuo papà nel 1985 fonda l'UnLights, che è stata la prima e la più grande associazione che si è occupata dei diritti, di difendere i diritti delle persone sieropositive e con l'AIDS è anche di combattere lo stigma, perché prima nel filmato abbiamo visto, tra le tante, abbiamo visto due immagini che sono rimaste un po' nella mente di tutti, credo, insomma a quelli che hanno, diciamo così, dai 40 in su più o meno. Una era la pubblicità con il contorno viola, che io mi ricordo ragazzina all'epoca era una cosa di un angosciante, no? Era veramente con quella musica che era pensata apposta per angosciare, insomma non mi viene in mente un termine diverso e invece poi c'era l'altra immagine che è quella del professore Aiuti che dà un bacio di quelli proprio con la bocca, insomma quelli proprio passionali, diciamo così, a una ragazza sieropositiva che è stato un bacio totalmente così improvvisato, mi immagino, oppure c'era stata una premeditazione, insomma avevano pensato di fare questa azione? L'hanno pensato perché in quei giorni circolava la notizia che il bacio era pericoloso perché il virus si trasmetteva con la saliva e quindi c'era l'assalto dei giornalisti, la comunicazione, decisero di farlo pubblicamente, poi credo che lo fecero un'altra volta a vantaggio del fotografo, proprio perché era necessario dare un messaggio positivo di non emarginazione contro la discriminazione e la cosa peggiore che stava succedendo era appunto quello di emarginare i malati, di ghettizzarli, di lasciarli isolati, mentre invece bisognava sostenerli, bisognava aiutarli e allo stesso tempo però bisognava dare anche messaggi corretti, quello su cui mio papà appunto si è impegnato tantissimo era l'informazione corretta anche attraverso questi gesti eclatanti, attraverso la comunicazione perché quando tornava a casa la sera la sua frustrazione era veramente grandissima, arrivava visita un nuovo caso, un nuovo caso e capiva che veramente l'unica arma che aveva in quel momento era comunicare, dare i messaggi su come prevenire la diffusione quando non c'erano farmaci e dall'altra parte aveva di storia di malati e emarginati che finivano in mezzo alla strada abbandonati, la casa alloggio servita proprio fondata grazie alle sore di madre Teresa e alla LAITS servita proprio a dare un'accoglienza alle ragazze che non avevano una casa perché magari erano abbandonate dalla loro famiglia e emarginate, erano momenti veramente drammatici che noi abbiamo vissuto attraverso i racconti in prima persona di mio papà E non solo attraverso i racconti, li avete vissuti anche in prima persona davvero perché poi tuo papà ha coinvolto tutta la famiglia, una delle cose che a me ha stupito leggendo il libro, io quegli anni li ho vissuti come tutti noi che non eravamo direttamente coinvolti in queste vicende, per cui guardando la televisione, guardando appunto quello spot che era tutto meno che contro lo stigma diciamo così, anzi ha probabilmente contribuito a crearlo e quindi ho visto tutto appunto con paura ma con anche molto distacco e quindi mi immaginavo quando vedevo il professore Aiuti in televisione, insomma mi immaginavo che dietro ci fosse una grande organizzazione, quindi insomma una di quelle cose enormi con un sacco di soldi che fanno le campagne ministeriali, invece erano il professore Aiuti, la mamma, la moglie e quindi la mamma di Alessandro, Alessandro e i suoi due fratelli e amici, insomma persone che venivano tirate dentro, una delle cose, delle scene più buffe che però siccome rende bene l'idea di questo coinvolgimento familiare è il racconto di questo spettacolo di beneficenza organizzato a Roma, con Gerry Scotti che presentava, Domenico Modugno che cantava e che a un certo punto ha anche detto qualcosa tipo ragazzi mettetevi il casco, cioè Domenico Modugno dove il casco ovviamente era il preservativo e però la cosa curiosa è che Alessandro Aiuti nel frattempo faceva il servizio d'ordine, sua sorella faceva la valletta di Gerry Scotti, cioè era tutta una cosa veramente casalinga, esatto casalinga, tua mamma col banchetto fuori è iniziato così, spesso è il volontariato, diciamo la spontaneità che fa nascere queste cose e poi ovviamente crescono perché bisogna strutturarsi, però quella era il momento in cui bisognava metterci la faccia e dare una mano in tutti i sensi. Metterci una faccia e appunto dare una mano in tutti i sensi. Anna Maria, se dovessimo creare una sorta di collegamento con questa parte qua, quindi quella più di così metterci la faccia, dare il proprio contributo di quei primi anni insomma che comunque hanno avuto un ruolo e di quelle prime azioni che hanno avuto un ruolo molto molto importante proprio per cercare di combattere quello stigma e il passaggio successivo perché poi voi nel libro raccontate diverse storie, la storia dell'AIDS, della famiglia Aiuti, però poi c'è anche la storia successiva dove poi arriva la seconda comparsa di Maria Grazia Rauncarolo, cioè quella che poi collega la prima parte con le storie di oggi dove questi virus vengono anche utilizzati per curare le malattie e c'è molto attivismo dietro anche oggi. Sì, diciamo che questo libro è stata l'occasione anche per ricostruire quale può essere il ruolo dei pazienti, quindi delle persone colpite da una malattia nell'orientare la ricerca e la storia dell'HU-AIDS è esemplare in questo senso perché in quel momento storico in cui non esistevano terapie e quindi gli scienziati iniziavano a sperimentarle, a cercare di trovare delle soluzioni, i tempi della ricerca erano assolutamente incompatibili con quelli della vita di queste persone che tipicamente erano molto giovani, erano molto giovani e in salute perché appunto chiaramente era legata all'attività sessuale, quindi chiaramente erano molto giovani e quindi queste persone non sono rimaste fermi, hanno cominciato diciamo a organizzarsi, a studiare come venivano condotte le sperimentazioni cliniche e sono andate a bussare alla porta delle istituzioni. Quindi Anthony Fauci che tutti hanno conosciuto durante la pandemia da Covid-19 è stato diciamo uno studioso importantissimo di malattie infettive nella prima fase dell'epidemia di AIDS, è stato lavorato a Valle Naieci insomma ed era il responsabile del programma di studio sull'AIDS. Ecco lui è sceso in piazza, si è deciso a un certo punto di ascoltare queste persone e questo dia lui è andato proprio nel Castro d'Iste, quindi a San Francisco, nel quartiere omosessuale, quello della liberazione sessuale dove le persone appunto erano anche molto arrabbiate per questa cosa che era avvenuta e ha cominciato a dialogare con loro e da questo è nato un nuovo modo di fare sperimentazioni cliniche che quindi mettesse insieme diciamo il rigore della scienza perché quello che emergeva dagli studi potesse essere utilizzato ma anche l'urgenza di queste persone e quindi per esempio il fatto di poter dare questi farmaci una volta che si fossero dimostrati sicuri non tossici senza aspettare l'efficacia perché altrimenti queste persone si sarebbero rivolte ad altro, meccanismi che poi anche successivamente abbiamo visto accadere e nel mondo che conosciamo che è quello di Teleton delle malattie rare non è molto diverso perché anche qui diciamo le persone spesso dal basso che diciamo le persone vanno a bussare alla porta degli scienziati e provano diciamo a orientare il loro lavoro. C'è un passaggio molto bello di Fauci dove dice noi ci eravamo convinti da medici di sapere tutto dei bisogni dei pazienti quindi di essere in grado di rispondere ai loro bisogni e però mi sono reso conto che anche i pazienti avevano, avevano, sapevano delle cose che noi non sapevamo e avevano delle esigenze che noi non avevamo intercettato e quindi lì è nata poi un nuovo modo di fare scienza, di fare anche appunto la scienza applicata quindi la medicina da cui poi i racconti di oggi e Teleton da questa cosa qui ha preso direi tutto quello spirito, quello spirito lì. Ma arrivando appunto a Teleton e alla seconda comparsa di Maria Grazia Roncarolo nel libro, a un certo punto lei lavorava in California, sì, in California e a un certo punto in Italia si stava pensando, grazie insomma al lavoro di Claudio Bordignon che è stato il padre dell'istituto Tiget dove appunto adesso lavora Alessandro, si è pensato di costruire quella che Alessandro Aiuti ha definito un pezzo di America in Italia e quindi di costruire un centro di ricerca che si occupasse di curare delle malattie che erano incurabili all'epoca, totalmente incurabili, rarissime e per le quali non c'era una cura e lei a un certo punto ha ricevuto una telefonata, in realtà anche tu Alessandro poi hai ricevuto una telefonata, avete tutti ricevuto delle telefonate da Claudio Bordignon. telefonata della vita, sì. Esatto, era il 1996 più o meno. Io penso che nella vita ci sia sempre un filo conduttore perché se posso fare un passo indietro, quando io poi sono tornata in Italia e mi sono specializzata in pediatria a Torino c'era un reparto dedicato ai bambini con HIV. Quindi noi avevamo un reparto per le burodeficienze primitive bambini bolla, come li descriviamo nel libro, e un reparto per questi bambini che erano stati di malattie effettive, infettati. E il mio capo di allora, una persona in sala, una cara amica, Silvana se lo ricordo bene, ha detto, ma tu sei così interessata all'immunologia al laboratorio, vai a lavorare con i bambini HIV positivi. E io devo ammettere che ho detto non posso, perché in quel momento non avevamo nulla che potesse aiutare questi bambini, se non una pura terapia sintomatica. E mentre nelle immunodeficienze primitive iniziavamo già a intravedere la possibilità di fare un trapianto di cellule staminali che potesse essere risolutivo. E devo dire che il mio spirito di combattente, io ho detto io devo andare lì, cioè a combattere per la cura. Sto combattendo ancora, stiamo combattendo ancora, però questa è anche la passione della nostra professione. E quindi proprio per combattere e per trovare la cura, io sono tornata a Lione pensando che queste malattie potessero essere curate non solo le immunoscienze primitive, ma anche le malattie metaboliche, la terazemia, con il trapianto in utero di cellule staminali. Che invece purtroppo è stato un fallimento. E in quel momento lì io ho incontrato Paul Berg, che purtroppo è morto di recente, che mi era anche citato nel libro. E Paul Berg mi ha detto devi venire ad INEX. Lui aveva fondato DINEX, che era questo istituto di biotecnologie dove facevano DNA recombilante. Insomma, a farla breve, sono andata ad INEX, che sono stati anni formativi per me, gli anni più importanti per la mia formazione come scienziato. E poi un giorno c'era un congresso internazionale di immunologia e Bordinio mi ha detto andiamo a cena. E io non lo conoscevo. Ah, proprio non una telefonata, la cena diretta. La telefonata è venuta dopo. Non lo conoscevo e ho detto ma che strano, ma questo personaggio mi invita a cena. Sono andata a cena con mio marito, che tutto voleva, tranne che io tornassi in Italia, diciamolo pure, e con lui, sua moglie. E nella cena mi ha detto tu devi venire a lavorare in Milano. Ma io non ci penso nemmeno. Ma siamo pazzi, il 94. Poi insomma è successo una serie di cose, tra cui anche che ho vinto per caso un concorso da associato all'Università di Torino e quindi mi sono in dovere di telefonarli e dirgli guarda che io ho vinto un concorso da associato a Torino e ho deciso di tornare nella mia città. E questa è stata la telefonata chiave, perché lui mi ha detto, si è fatto una bella risata e mi ha detto ah, mi costerai molto meno. E così è stato. Perché poi, insomma, io sono da Torino e dopo dieci mesi sono approdata a San Raffaele e all'Istituto Teletum per la terapia genica. E devo dire che sono stati dieci anni bellissimi, ma bellissimi perché ho incontrato Alessandro, ho incontrato Luigi Naldini, c'è stato un concentrato di cervelli e di massa critica che ha fatto un'esplosione di creatività e di possibilità veramente di riscrivere i libri di medicina. Io lo dico sempre, sembra molto presuntuoso, ma io penso che gli scienziati, i ricercatori del TIGEL, grazie al talento delle persone qua presenti, ma anche al talento di molti altri giovani, hanno riscritto i libri di medicina. Caspita, che bella cosa che ha detto. Tra l'altro Luigi Naldini, che è qua in prima fila, lo salutiamo. Benvenuto, se vuole può. Magari poi la tiriamo anche su a un certo punto. Non c'è la sedia per il momento, però se la può portare su e dopo la... se vuole... Eh, venga, venga. Così abbiamo il Dream Team. Io sono un po' imbarazzata. Eh, ma dillo a me. Io sono stata a lezione da quasi tutti questi, quindi insomma c'ho un attimo di ansia. E va bene. Luigi Naldini, che è l'attuale direttore dell'Istituto San Raffaele Tiget. E intanto, ma benvenuto anche a lei, già che siamo qua tutti insieme. È diventata una cosa un po' di famiglia. Un anno chiave per entrambe le storie è stato il 1996. Perché nel 1996, lato AIDS, viene fuori la prima, insomma, terapia efficace. Però, e quindi, insomma, cambia un po' la storia dei malati, delle persone seropositive, perché a quel punto non era più quello che diceva la professoressa Roncarolo, no? C'era una possibilità per questi, per questi bambini. Però nel 1996, e già che è salito sul palco a questo punto, lo chiamiamo, lo chiamiamo in causa, a Luigi Naldini viene un po' in mente una cosa, no? Sì, veramente nel 94. Era il 94, sì, poi nel 96 ha pubblicato, certo, certo, va bene. Io mi baso sulla pubblicazione, ma effettivamente l'idea l'è venuta prima. Io ero, quegli anni ero a San Diego, a Solc, e mi stavo avvicinando a questa dream della terapia genica. Anch'io ho avuto una telefonata, ma l'avevo chiamato io, Bordiglione, in questo caso. All'epoca la SIP era felicissima. Una dritta su come orientarmi su questo futuro, e quindi c'era questa idea di andare al Solc, dove c'era un po' la parte più tecnologica di sviluppo, e quindi arrivai lì con l'idea di entrare in questo nuovo campo, insomma. E quindi ovviamente avevo altre idee, quando sono arrivato, ma al piano di sopra c'era un laboratorio che lavorava su HIV, con di dietro no, e aveva appena scoperto uno degli aspetti chiave di questo virus così patogenico per l'uomo, perché era la capacità di entrare nelle cellule in modo molto efficiente. E quindi siccome il problema principale dei vettori su cui si lavorava il TGET, Maria Grazia e Alessandro stavano lavorando già sull'immunodeficienza, il problema era che sì c'era una prova di principio che poteva funzionare l'idea della terapia genica, usare questi virus particolari, questi retrovirus che hanno delle caratteristiche utili, ma erano poco efficienti nelle cellule umane soprattutto. E quindi io dovendo entrare in questo campo nuovo si prospettò questa idea a un certo punto, ma se c'è un retrovirus nuovo, umano, così efficiente, se potessimo catturarlo. Questo progetto mi affascinò perché voleva dire cominciare da zero. e quindi passai come racconta sempre i primi due mesi nella biblioteca del Solg, perché allora non c'era ovviamente, oggi sarei andato online a scaricare in una notte tutta la letteratura. Dicevo ho passato, era un bel posto, ma ho passato due mesi a studiare tutta la virologia che era allora nota e poi in qualche modo disegnare questi vettori, questa idea di trasformare questo virus così veramente drammaticamente patogenico, no? E lo era ancora, c'era piena paura ovviamente a lavorare. Quindi lo diciamo per chi non ha fatto un corso di biologia molecolare, l'idea era quella di prendere il virus dell'HIV, togliergli le parti cattive, diciamo così, mettergli dentro il gene che si vuole trasferire e quindi usarlo come appunto vettore, vuol dire che trasporta cose all'interno, un'idea abbastanza originale che nel libro lei dice che ha vissuto anche un po' lo stigma, diciamo così, simile o comunque insomma c'era uno stigma anche nei confronti dell'uso di questo virus come vettore parallelamente allo stigma che poi chiaramente con dimensioni ovviamente diverse, però parallelamente allo stigma che c'era nei confronti delle persone Certo, perché l'idea di terapia, terapia gene, quindi usare sia pure un virus modificato in qualche modo diciamo addomesticato per l'uso, ma che comunque fosse un virus così pericoloso ovviamente sollevava dubbi enormi, quindi insomma la prima volta che raccontai questa storia, nel 96 esce questo paper su science in cui annunciamo il primo risultato sui topi ovviamente di questo vettore che funziona, poi ho presentato al congresso a Seattle e ovviamente mi hanno detto ah una bella storia, spero che tu finisca qua di lavorarci, sostanzialmente. Eh va bene, la comunità scientifica si sa, è scettica come dicevamo prima, il primo approccio è sempre lo scetticismo. Alessandro, a te ti ha chiamato Bordignon? Sì sì, mi ha chiamato, no mi ha chiamato e mi ha invitò a raggiungerlo nel suo istituto nel 96, io ero appena tornato dagli Stati Uniti e avevo appunto dopo due anni in America che era il sogno delle ricercatorie, lo raccontiamo nel libro, quando tutto funziona perfettamente, tutto è a disposizione di chi fa ricerca, c'è una mentalità completamente diversa, io vidi in quello che stava nascendo quell'istituto al San Raffaele la possibilità di cominciare anche in Italia ad affrontare alcune ricerche. Iniziai prima con delle ricerche di base, poi fui coinvolto nei progetti di terapia genica sulle modificenze primitive e quindi da lì nacque quello che è stato poi il raggiungimento di un inizio di un sogno, di quello che avrei sempre voluto fare da ragazzo, da studente di medicina, quello di poter cambiare il destino di una malattia, come dicevano i ragazzi, di scrivere le pagine di libri di medicina perché era veramente il posto giusto per portare avanti con le ricerche. E devo dire che Bordignon ci vedeva a lungo evidentemente perché insomma è riuscito a riportare in Italia gli scienziati che insomma che avevano avuto delle idee originali, che avevano già una carriera avviatissima e lanciatissima e che stanno lavorando su queste cose. Prego. Sicuramente assolutamente merito. Io devo dire che quando sono arrivata al TG nel 98 io sono stata reclutata appunto da Claudio per essere il suo successore. Quando sono arrivata al TG ho capito che l'unica persona che lo sapeva che sarei stato il direttore del TG te ero io. Però insomma dopo due anni in effetti lo sono diventata. Alessandro era assolutamente già una star nascente e devo dire che è stato un bel regalo lavorare con lui. Io mi prendo un pezzo di merito di aver reclutato il professor Naldini, IG come lo chiamiamo noi, convincendo sua moglie che è una grandissima donna, è un grandissimo medico che insomma Milano non era poi così male. Non è il Torino, però insomma si può sopravvivere e devo dire che tornando spesso a Torino si può sopravvivere. Per me quando io ho lasciato la direzione del TG per diventare direttore scientifico del San Raffaele io ho avuto un'immensa fortuna perché sapevo che c'erano Alessandro e che c'erano il professor Naldini che avrebbero non solo portato avanti quello che avevamo iniziato insieme ma che l'avrebbero sviluppato e reso ancora più insomma eccellente di come era. Quindi insomma è stato un grande privilegio. Se posso aggiungere una cosa? Magari non tutti qui nella sala sanno che cos'è questo istituto. È un istituto che è nato appunto nel 96 fondato dalla fondazione Teleton che era nata sei anni prima nel 1990 nota probabilmente per la maratona televisiva quindi per quel gran carrozzone che sulle reti Rai a un certo punto a Natale si accende e chiede alle persone di essere generose nei modi più strampalati però è proprio quella fondazione che grazie insomma alla sua dirigenza oggi non è qui stasera Francesca Basinelli l'attuale direttore generale ha avuto la lungimiranza di capire che quello che le proponeva Claudio Bordignon perché loro si erano incontrati era effettivamente qualcosa di lungimirante e quindi come dire gli ha creduto e hanno deciso di investire di creare un istituto che è davvero davvero un fiore all'occhiello ed è anche un privilegio per chi deve raccontarlo poter vedere in un arco di tempo così breve trasformarsi trasformare la ricerca in cure. Quando io sono entrata a Teleton queste ricerche di cui stiamo parlando erano sui topi e io ho avuto il privilegio di vedere dei bambini che hanno avuto una possibilità grazie a questa. Ma infatti io vorrei voi nel libro raccontate diverse storie di questi di questi bambini si parla di bambini perché poi queste malattie sono malattie appunto genetiche colpiscono principalmente i bambini sono malattie come dicevamo prima terribili per le quali non c'era una cura e che davano delle aspettative di vita insomma molto qualche mese forse qualche anno comunque con gravi limitazioni e l'idea di concentrarsi su queste malattie è sicuramente stata da un lato una sfida. Maria Grazia Roncarolo credo che sia lei, ho un ricordo ma secondo me lei dice era come scalare una montagna a mani nude no? Proprio ti dà l'idea della sfida scientifica e dell'impegno che ci mettevano ci mettono e ci mettono tuttora. Voi raccontate appunto nel libro diverse storie di questi bambini a me è quella che poi aveva colpito di più ma sarà perché perché poi ci ho lavorato anch'io intervistando Alessandro per il magazine di Teleton e quello della prima bambina curata da una malattia che si chiama Adas Kid che è una immunodeficienza grave una bambina palestinese che che aveva già avuto dei casi in famiglia c'erano dei fratelli alcuni erano già morti insomma veramente una storia una storia molto molto brutta e questi due di fatto decidono lei forse non c'era ancora no questi due decidono di provarci insomma di provare di provare a curarla chi dei due me la racconta la storia? Ce la racconta? Alessandro? Ma questa bimba che si chiama Salsa Bill che oggi è adulta già questo veniva dall'idea del successo veniva da uno scricciolo, appunto era dalla parte di Gerusalemme palestinese fu curata in realtà questo è un caso di collaborazione a distanza da lontano perché noi avevamo eravamo pronti per trattare questa bambina avevamo prodotto tutti i reagenti tutto quello che serviva quando questo medico israeliano ci disse abbiamo questo caso non riuscivamo a portarla a Milano però noi avevamo la disponibilità comunque a curarla lì e quindi andammo con tutti i reagenti con tutto quello che serviva per curarla lì e quello fu la svolta perché fu la prima volta in cui vennero introdotte alcune modifiche, alcune innovazioni per esempio una dose bassa di una chemoterapia che nessuno aveva mai avuto la forza, il coraggio di utilizzare ma che noi pensavamo fosse veramente necessaria e che quindi diciamo grazie a questa idea che condividemmo e che in una riunione che nello studio di Claudio Bordignon quando io mi ringrazio Claudio e questo medico israeliano alla fine ne uscimo fuori diciamo senza stare a raccontare come però ne uscimo fuori con questa che fu l'idea vincente e grazie a questa idea e tante altre innovazioni che portammo quella fu la prima bambina ad essere veramente curata da quella malattia poi seguirono altri bambini che arrivarono da noi, una bambina da Colombia, un bambino dal Venezuela, Rafael che avete visto che anche lui è diventato grande adesso va all'università e tanti altri da 40, più di 40 paesi da tutto il mondo da tutti i 5 contenenti arrivano al TGET grazie al nostro istituto, grazie al sostegno di Teleton che ha dato in tutti questi anni Alessandro è molto umile e quindi ti racconta queste cose che sono cose da un punto di vista scientifico incredibili io una volta ho detto che loro sono nel mio Fanta Nobel, quindi quel gioco che facciamo per vedere i nostri candidati ideali al premio Nobel e insomma questi personaggi qua ci sono tutti dentro il mio perché effettivamente sono scoperte, adesso non voglio tirarvela e quindi che poi non lo vincete, spero di non avere questo potere, però comunque insomma sono scoperte, sono state non solo scoperte anche proprio, c'è stato un lavoro scientifico sia di ingegno ma anche proprio di pratica veramente incredibile che ha portato alla cura di quella prima bambina e di tanti altri, sono 200... 139 solo al TGET, però in realtà nel mondo ce ne sono possiamo dire almeno più di 300 bambini o ragazzi che hanno beneficiato della terapia genica di questo tipo di cura che agisce proprio alla radice correggendo il difetto genetico nelle cellule staminali del sangue di questi bambini poi ci sono anche altri approcci di terapia genica, questo è uno che utilizziamo per alcune malattie poi ce ne sono anche altri che vengono condotti in altri istituti in Italia e nel mondo per altre malattie genetiche però secondo me devo raccontare anche l'altra parte, quando praticamente facevi un campeggio nell'ospedale perché dopo che abbiamo fatto il primo bambino e ha funzionato benissimo abbiamo detto ce l'abbiamo fatta e il secondo ha avuto un po' di problemi e Alessandro Aiuti si è accampato in ospedale io col telefono attaccato alla notte perché comunque quando fai queste terapie per la prima volta anche se fai tutti gli studi preclinici possibili per prevedere e prevenire qualsiasi step back in realtà non lo sai mai fino in fondo quindi noi abbiamo avuto delle battute d'arresto perché ad esempio non avevamo capito che questa chemioterapia che era una cosa assolutamente innovativa poteva avere degli effetti diversi a seconda di dove era nel bambino nello stadio della malattia e quindi è veramente scalare una montagna con degli strumenti che per quanto sofisticati non sono mai sufficienti per affrontare tutti gli ostacoli e credo che questo vada detto perché a volte la gente pensa hai fatto una cosa e va bene così voltiamo pagina no invece l'esecuzione proprio dello studio clinico e Teleto in questo è stato fondamentale ha consentito non solo di capire la malattia e trovare questa nuova terapia ma di aprire la strada anche tutte le malattie successive quindi in questo l'Italia e il TGET l'hanno fatta veramente da apripista e devo dire che consentitemi perché io sono dei due mondi quindi lo posso dire penso che se una cosa di questo genere fosse successa in America il credito sarebbe stato a livello mondiale secondo me non c'è abbastanza consapevolezza a livello mondiale che questa prima sperimentazione clinica ha cambiato la strada della terapia genica anche per le malattie successive come l'hanno cambiata i lentivirus tutto italiano eh no diciamocelo diciamocelo sì nel libro lo raccontate con l'approccio appunto un po' umile però comunque questa cosa viene fuori il riconoscimento internazionale in realtà c'è forse non c'è un riconoscimento nazionale mi viene da dire insomma forse tendiamo sempre un po' a ridimensionarci ah boh tocca a Naldini no no c'è è vero c'è un riconoscimento internazionale come sempre quello che manca un po' è il sistema dietro cioè su questa base poteva essere costruito come forse sarebbe successo in altri paesi molto di più di quello che si è fatto il TGT è rimasto in fondo un'operazione veramente supportata dalla fondazione Teleton che ogni anno corre il rischio di mancare una raccolta perché succede qualcosa che devia tutta la raccolta fondi in fondo oggi il paese si è accorto di questo perché in realtà sono arrivati i primi farmaci al mondo di terapia genica quindi c'è anche stata collaborazione alla fine però poteva esserci no poteva essere raddoppiato poteva essere amplificata questa operazione oggi potenzialmente abbiamo nel famigerato PNRR c'è un centro nazionale di terapia genica che di nuovo nasce un po' da questi spunti che anche noi abbiamo lanciato ma anche questo sta soffrendo dei problemi del sistema Italia una struttura burocratica che sta distribuendo i soldi in modo non così accurato non riesce a spendere di nuovo potrebbe essere un'occasione non del tutto persa penso che cercheremo come sempre di realizzare qualcosa di più il passo successivo oggi è quello di creare un centro che possa erogare queste terapie anche quando il mercato non funziona quindi abbiamo una sfida di nuovo importante che raccoglieremo però insomma in qualche modo certo il sistema dietro è sempre un po' carente infatti una delle cose per ricollegare all'ultimo filo conduttore che è quello un po' più dell'attivismo che percorre tutto il libro Fondazione Teleton è entrata dentro alla ricerca in maniera importante come abbiamo visto decidendo di costruire un centro che all'inizio era fatto da poche persone adesso abbiamo visto nell'ultima foto insomma siete in tanti avete curato tanti bambini e adesso però Fondazione Teleton sta pensando di fare un ulteriore passo che è di nuovo un passo molto innovativo insomma prima i pazienti sono entrati nel processo che decide a chi dare i soldi fondamentalmente quindi che finanzia la ricerca adesso i pazienti entrano nel processo di produzione dei farmaci perché questi racconti che ci sono stati fatti quindi di queste terapie innovative usando i virus usando queste cellule staminali sono diventate dei farmaci dei farmaci strani perché non è la pillola che tutti conosciamo è un farmaco che prevede di accamparsi fuori dall'ospedale in tenda insomma è un farmaco appunto innovativo c'erano delle aziende che li producevano grazie anche appunto alla collaborazione con Fondazione Teleton queste aziende nell'ultimo periodo insomma di fatto si sono un po' tirate indietro per fare un riassunto molto molto breve per questioni economiche perché è difficile riuscire a stare sul mercato con dei farmaci per malattie rarissime e quindi Fondazione Teleton insieme ad altre fondazioni in giro per il mondo sta cercando di di entrare in questo processo aggiungendo un livello e quindi volevo decidete voi chi risponde che insomma che capire un po' quest'ultimo passo qui cioè che cosa ci dobbiamo ci dobbiamo aspettare per il futuro lei ha una visione internazionale voi avete una visione ovviamente internazionale ma anche sul nostro paese e quindi insomma dove si sta andando io penso che questa scelta del Teleton cioè vorrei dire fare un passaggio per produrre questi farmaci ci sono stati anni di lavoro e di soldi spesi dagli italiani perché la fondazione Teleton è finanziata dagli italiani è chiaro che il lavoro del ricercatore e del medico finisce nel momento in cui noi dimostriamo che questa terapia è sicura e funziona poi ci deve essere un'azienda che la vende non in farmacia ma che la vende commercialmente cioè che faccia un marketing del prodotto questa cosa è difficilissima per una Big Pharma ma anche per un'azienda di biotecnologia calcolate che una Big Pharma se pensa che il farmaco non renda almeno 500 milioni all'anno non lo commercializza perché non c'è il ritorno sufficiente immaginatevi un farmaco che per malattie dove ci esistono 500 bambini 600 bambini però se quel bambino è tuo figlio o tuo nipote personalmente credo che non te importi niente che quel farmaco non renda tu vuoi che quel farmaco sia accessibile quindi queste aziende che inizialmente avevano detto sì lo commercializziamo poi si sono tirati indietro e quindi hanno vanificato in qualche modo 20 anni di lavoro di soldi spesi di sforzo la fondazione Teletro ha fatto un passo coraggiosissimo perché ha detto non possiamo permettere che i bambini non abbiano accesso a queste cure quindi le commercializziamo noi facciamo noi il marketing ma è un passo molto coraggioso e devo dire anche rischioso io penso che in questo sia molto importante che ci sia il supporto dell'italiano in primis perché ripeto la fondazione Teletro esiste perché gli italiani donano alla fondazione Teletro ma anche delle istituzioni perché questo passo che di nuovo l'Italia sta facendo ad armi pista perché noi abbiamo partecipato a una riunione a Washington dove gli americani adesso dicono ah forse dobbiamo fare così e Alessandro Iuti ha detto no scusate noi lo stiamo già facendo peraltro con un intervento bellissimo allora noi di nuovo come italiani con la nostra creatività nonostante il fatto che insomma ci siano un po' di problemini sul sistema facciamo da apri pista bisogna che le istituzioni supportino questa cosa assolutamente bisogna veramente avere un peso in modo che questo sforzo che la fondazione Teletro stia facendo vada a buon fine ecco io mi auguro questo e da un punto di vista di comunicazione Anna Maria Zacchetto visto che il tuo ruolo è quello secondo te c'è la percezione a livello di popolazione di queste cose e che cosa si può fare secondo te Allora la fondazione Teletro racconta da tantissimi anni le storie le storie di questi di questi bambini ragazzi anche perché sono un esempio tangibile per dire alle persone perché è importante che voi ci sostegnate nello stesso tempo parliamo di malattie che non che non conosce nessuno a meno che appunto non ci sia trovato quindi è molto è molto difficile catturare catturare l'attenzione quello che appunto noi speriamo rifare quello di superare un pochino il rumore di fondo che in realtà è molto rumoroso e far arrivare all'attenzione delle persone l'importanza appunto di non lasciare indietro nessuno e soprattutto come diceva la professoressa Roncarolo l'importanza di fare sistema perché è chiaro che questa operazione se anche la fondazione farà da prepista non funzionerà se sarà solo la fondazione a farlo se non ci sarà la collaborazione delle autorità regolatorie delle istituzioni se non cominceranno a collaborare altre istituzioni per diciamo avviare una produzione di queste terapie sostenibili laddove siano per malattie così rare che non sono economicamente interessanti quindi parliamo veramente di malattie rarissime come diceva se quella persona è tuo figlio è tuo nipote certo certo che ti riguarda se poi appunto hai avuto il privilegio di conoscere queste persone di vedere che oggi hanno un futuro fanno ingegneria insomma forse vale la pena una delle cose che a me ha stupito quando ti avevo intervistato per il il magazine di Teleton era che mi avevi raccontato che nel tuo studio ci sono comunque nel corridoio del Tige ci sono tutte le foto dei bambini e però dei bambini poi anche nel corso della loro vita perché poi le famiglie insomma mandano degli aggiornamenti abbastanza frequenti e quindi mi raccontava perché quel bambino adesso fa appunto fa l'università mi hanno mandato la foto di quando ho preso la patente perché poi sono traguardi normali che però non sono normali se tu avevi un'aspettativa di vita davvero di pochi mesi e questa cosa delle foto mi ha fatto pensare di nuovo e qui chiudiamo il cerchio anche perché secondo me abbiamo anche un po' finito il tempo a nostra disposizione però mi ha fatto pensare al racconto dei primi passi fatti da tuo papà nel cercare di sensibilizzare le persone sulla malattia sulla prevenzione eccetera quando dicevamo era una cosa molto di famiglia che poi è diventata una famiglia allargata che ha tirato dentro un sacco di altre persone e a un certo punto anche le istituzioni anche se non così tanto e mi sembra che ci sia insomma ci siano molti punti molti elementi che tornano anche in questa storia dove è una storia di famiglia perché di fatto Teleton è una grande famiglia sono diventati di famiglia tutti i bambini e tutte le loro le loro famiglie tu in quelle interviste mi avevi detto questi questi bambini tornano e vengono a incontrare la nostra famiglia del TGET perché è vero scusa alcuni bambini poi non hanno ricordo perché magari avevano uno o due anni quando erano venuti in ospedale poi ritornano una volta all'anno e quando sono cresciuti si rivedono nelle fotografie scattate all'epoca con il papà con l'infermiere con i nostri coordinatori volontari proprio stamattina è venuto un bambino che camminava e che cercava la sua fotografia tra quel muro che ormai è diventato una parete enorme e stiamo caffezando di fotografie di tutti i bambini di tutti i bei momenti della loro vita e questo è molto emozionante molto bello mi ricorda appunto mio papà tutti noi credo che quando facciamo questo la scelta di fare il medico naturalmente deriva anche da una volontà di aiutare di essere altruisti però sappiamo anche che dobbiamo essere professionalmente distaccati questo è molto difficile esserlo credo che tutti noi abbiamo avuto diciamo pazienti persone le cui storie ci siamo fatti coinvolgere e che sono rimaste nel cuore ce n'è una un bambino che per esempio è rimasto nel cuore di mio papà per tanti anni che era stato avuto era stato adottato l'abbiamo visto esatto Daniele e lui era rimasto molto legato perché ha cercato in tutti i modi di curarlo con i farmaci che c'erano allora poi purtroppo è mancato non è potuto diventare grande e anche noi credo che abbiamo nel cuore tanti bambini a cui abbiamo ridato la vita anche altri a cui non ce l'abbiamo fatta perché non siamo riusciti a arrivare in tempo non tutte sono storie di successo perché queste terapie hanno bisogno di tempo per arrivarci e purtroppo sappiamo che in alcuni casi non siamo arrivati in tempo perché non eravamo pronti quindi ecco troverete nel libro le storie di successo ma anche storie particolari che ci fanno ricordare le nostre persone care di famiglia che abbiamo nel cuore e noi per loro credo che siamo appunto dei nuovi genitori dei nuovi papà e mamme perché rivivono il giorno del trattamento della terapia genica per loro è un nuovo compleanno un nuovo compleanno che festeggiano ricordandoci quindi beh mi sembra un bel finale prima di salutare e di salutarvi vi ricordo che la cura inaspettata all'HIV da peste del secolo a farmaco di precisione scritto da Alessandro Aiuti e Anna Maria Zacchedu è in vendita al banchetto al banchetto qua fuori dove ci sono anche dei volontari a proposito di attivismo di facciamo la nostra parte eccetera eccetera ci sono dei volontari di fondazione Teleton che ringraziamo ci sono sono anche qua in sala i proventi del libro vanno interamente a Dan Leitz e a fondazione a fondazione Teleton quindi insomma comprarlo è anche un modo per fare la propria parte però come ho già detto in un'altra occasione leggerlo è un modo per fare la propria parte perché conoscere questa questa storia che è la storia di 40 anni di vita del nostro paese ma di di storia della scienza di fatto è un modo per essere dei cittadini più consapevoli e magari contribuire a far sì che il sistema Italia eccetera eccetera insomma prenda una posizione e decida di aiutare fondazione Teleton in questa nuova sfida allora io ringrazio vabbè parto da loro ringrazio Luigi Naldini che è tirato su all'ultimo Maria grazia Roncarolo adesso torna in America torna in America quindi è qua in vacanza diciamo sono qui per lavoro giustamente e grazie e grazie a Anna Maria Zacchè e a Alessandro Aiuti Beatrice Mautini grazie a Beatrice loro ve li firmano volentieri i libri quindi comprateli insomma questo è il senso è il senso è il senso che è il senso che è il senso Grazie a tutti